Il Vescovo Franco Agostinelli Stefano Simmaco torna a Prato con il suo One Man Show straordinaria età. Il Prato trova Natale sereno battendo il fanalino di coda a San Gimignano. Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con informazione di TV Prato. Ormai manca veramente poco al Natale, questa notte infatti le campane di tutte le chiese annunceranno la nascita di Cristo. Il Vescovo Franco Agostinelli, nell'intervista rilasciata al nostro direttore Gianni Rossi, ci ricorda che tra i tanti regali del Natale, quello vero è proprio il dono di Dio all'uomo, ossia il suo figlio Gesù. Vediamo l'intervista. Eccellenza, torna il Natale, siamo arrivati alla festa dopo giorni di frenesia ormai per tutti. La festa per tanti è l'occasione del dono, dello scambio dei regali, del ritrovarsi in famiglia, ma è possibile cercare ancora il senso più profondo di questa festa? Intanto siamo molto contenti di essere arrivati al Natale perché il Natale è senz'altro un momento ricordato, un momento atteso da parte di tutti, non soltanto da coloro che condividono la fede cristiana. Siamo stati presi da una frenesia di preparazione al Natale, questo lo vediamo a tutti i livelli, basta accendere la televisione, basta leggere giornali, reclami che in fondo propongono il Natale attraverso una strada che per noi non è totalizzante, non è completa. Tutto questo non deve essere il fine del Natale, ma è soltanto il mezzo che ci riporta a quello che è il regalo vero, ed è Gesù Cristo. Questa proposta che il Signore ci fa e che serve veramente per l'umanità intera, è dono perché veramente fa l'uomo più uomo, è forse detta delle indicazioni precise, delle strade percorribili perché l'umanità veramente possa vivere una vita degna di essere vissuta. Vorremmo recuperare veramente il Natale da questo punto di vista, perché questo allora vuol dire che il Natale non sarà, vorrei dire quella festa che arriva, ma poi come è arrivata presto va via, si spegne tutto e il Natale si dimentica perché non ha lasciato nulla. Il giorno dopo il Natale è Santo Stefano il patrono della città. Prato sembra ancora dibattersi tra le difficoltà di un passato recente e segnali di futuro che pur ci sono. Cosa vuol dire alla città in questo giorno particolare che ormai si sta approssimando? Santo Stefano è una persona che veramente ha impegnato la vita nella giustizia, nella solidarietà, nel darsi da fare per così dire, perché veramente ogni persona potesse avere una vita dignitosa. Allora qual è l'input che noi possiamo cogliere e l'augurio che noi possiamo dedurre dal celebrare la festa di Santo Stefano? Che anche noi siamo e diventiamo sempre più persone animate da coraggio, che sanno veramente avere la capacità di una diagnosi piuttosto critica di quella che è la realtà, vedere quello che oggi non c'è più e ce ne rammarichiamo, ma non al punto di dire allora fermiamoci perché non possiamo farci più nulla, ma delle persone che proprio in virtù di questa situazione che sappiamo leggere, in fondo ecco guardano il futuro e lo guardano con speranza, raccogliendo quei semi di speranza che di fatti ci sono anche a Prato. Buon Natale allora eccellenza. Buon Natale anche a voi tutti, buon Natale a tutti i nostri concittadini, soprattutto coloro che in fondo trovano il Natale incontra in situazioni di maggior difficoltà. Buon Natale con tutto il cuore. E da secoli il giorno di Natale a Prato la festa è doppia perché in cattedrale si rinnova l'appuntamento con l'antico rito dell'ostensione del sacro cingolo mariano. Domani martedì 25 dicembre alle 17 canta o dei vespri e al termine Monsignor Franco Agostinelli mostrerà la preziosa reliquia mariana ai fedeli presenti in Duomo. Mercoledì 26 è il giorno della festa patronale dedicata a Santo Stefano con il solenne pontificale in Duomo e la proclamazione dei vincitori degli Stefanini. I premi che la città riconosce alle aziende virtuose del distretto industriale pratese. La messa solenne con inizio alle 10 viene trasmessa in diretta da TV Prato. E sempre su TV Prato questa sera dopo il telegiornale alle 21.20 ci collegheremo in diretta con la Basilica di San Pietro a Roma per la messa della notte di Natale presieduta da Papa Francesco. E prosegue il nostro giro alla scoperta dei presepi più suggestivi allestiti a Prato. Oggi andiamo a conoscere quello realizzato a Maliseti da Paolo Cecconi e da Umberto del Re dell'Associazione Italiana Amici del Presepio. Ce ne parla Mattia Vignolini. Nei locali della parrocchia di San Giovanni Battista a Maliseti fa bella mostra di sé un grande presepe di 12 metri quadrati. Costruito da Paolo Cecconi e Umberto del Re, quest'anno il presepio è stato spostato all'interno del teatro della parrocchia per consentire una maggiore ampiezza visiva. Questo anno è stato spostato dalla sacristia a una zona molto più ampia e più visibile. È questo teatro della parrocchia in cui c'è uno spazio molto più grande per poter allestire il presepe, cambiando anche completamente la scenografia. Poi sono sempre il solito presepe palestinese con le solite casse squadrate e bianche. Abbiamo rifatto completamente tutte le montagne, dandogli una visibilità diversa, con alcuni scorci particolari. La visibilità è molto ampliata rispetto a quella degli anni precedenti, in quanto la parte visiva risulta molto più ampia. Quindi avendo una distanza maggiore dal presepe si ottiene una visibilità maggiore. Quindi la scenografia cambia completamente, vedendolo più da lontano. Il presepe è visitabile tutti i pomeriggi fino alle 18, il sabato anche al mattino e nei festivi fino alle 13. E voltiamo pagina, è stata applicata per la prima volta a Prato la nuova norma del codice della strada che vieta a persone residenti in Italia di a più di 60 giorni di guidare veicoli con targa straniera. Una donna italiana residente nel nostro paese è stata infatti fermata per un controllo in via di Reggiana mentre si trovava al volante di un'auto con targa rumena. Ente è stata ad una persona residente in Romania. Gli agenti hanno quindi applicato una sanzione di 712 euro ed hanno sequestrato il veicolo. Secondo le nuove norme il proprietario ha infatti l'obbligo di immatricolare il veicolo entro 180 giorni scaduti i quali scatta la confisca del mezzo. La recente norma cerca quindi di mettere un freno al fenomeno dei residenti in Italia che circolano con auto immatricolate all'estero per eludere bollo ed eventuali sanzioni. Lo showman pratese Stefano Simmaco si prepara al suo spettacolo straordinarietà che porterà per la prima volta a Prato sul palco del Teatro Borsi. Il prossimo 4 gennaio in scena quindi emozioni, risate e riflessioni insieme a tanti ospiti speciali. Vediamo. Dopo numerose tappe in giro per l'Italia, arriva per la prima volta a Prato il one man show dell'artista Stefano Simmaco. Venerdì 4 gennaio alle 21 sul palco del Teatro Borsi andrà in scena lo spettacolo Straordinarietà, un viaggio attraverso la bellezza di ogni fase della vita, dall'infanzia fino alla vecchiaia, in cui il talento pratese si racconterà al pubblico tramite il canto, il ballo e la recitazione. A fare da colonna sonora saranno i testi e le musiche dei grandi della canzone italiana, tra cui Lucio Dalla e Massimo Ranieri. Tanti gli ospiti in programma. Chi ci sarà? Allora, Massimiano Marchetti che è un ragazzo, un allievo del politico a Pratese, della scuola Arte in Scena, poi ha fatto diverse cose anche in tv e insomma ha una voce spettacolare. Marco Martinelli che è un ragazzo di Pisa che ha fatto con me forte, 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 penso sia arrivato terzo, sicuramente, no, sì, è arrivato terzo e niente, anche lui, una voce spettacolare, Massimo Bertacci, con lui abbiamo fatto la scuola insieme Arte in Scena, eravamo tutti e due allievi 15 anni fa, una cosa del genere, così. E poi tanti altri amici, però se li dico tutti. Già 70 i biglietti venduti per la data Pratese, i ticket sono disponibili al costo di 15 euro presso la biglietteria del Teatro Borsi, che nella scorsa primavera ha ospitato il format di TV Prato, 40 di noi, dove Simmaco si esibiva con la sua solita carica di energia e simpatia. Anche stavolta sarà uno show a tutto tondo, in cui si riderà, si rifletterà e ci si commoverà. Quando sei fuori tendi sempre un po' a, innanzitutto, a regolare un po' il Pratese, invece qui, questa volta, mi sa che qualche cosina di Pratese e la dico, ecco. E poi, perché insomma, tante persone che magari non riescono a muoversi così, quando io ho detto, guarda, sono a Prato, ho i borsi, ho fatto, no, si viene, si viene. Infatti la pre-vendita sta andando molto bene e sono felice, insomma. Quindi? Straordinarietà. Vi aspetto. Vi aspetto. E' stato riparato nella notte il guasto alle tubazioni che ha lasciato senza acqua per un giorno intero gli abitanti della zona di San Paolo. Ieri i cittadini di via Donizzetti, via Borgioli e le strade limitrofe si sono infatti svegliati con i rubinetti a secco. Il problema è stato individuato dai tecnici di Publiacqua in via dell'Alberaccio. Qui il 27 dicembre verranno quindi effettuati dei lavori di sostituzione della condotta dell'acqua che provocheranno l'interruzione della fornitura idrica a partire dalle 8 e fino al tardo pomeriggio. Abbassamenti di pressione potranno interessare anche le vie limitrofe. Un autobot rimarrà a disposizione delle utenze in via dell'Alberaccio interessate quindi dai lavori. E apriamo adesso la pagina sportiva. Iniziamo dal calcio. Il Prato supera il fanalino di coda San Gimignano ed esce dalla zona play-out. Ancora decisivo l'attaccante Moreo, autore di una doppietta. Vediamo. Babbo Natale regala i tre punti al Prato che nell'ultima partita del girone di andata supera il campo sportivo Adonelli di Montemullo il fanalino di coda San Gimignano. Per la squadra di Alessio Di Petrillo si tratta della quinta vittoria stagionale che consente di uscire dalla zona play-out. Una bella boccata d'ossigeno. La squadra ha saputo reagire alla vemenza loro perché venivano a prenderci abbastanza alti e siamo stati bravi a portarla a casa e adesso abbiamo 15 giorni per stare un po' con le famiglie, un po' per lavorare e buttare dentro ancora cose che ci danno consapevolezza dei nostri mezzi. Primo tempo abbastanza sonnolente. Occasione per Bazzoffia con il portiere del San Gimignano Chiarugi, reattivo. La squadra senese tiene bene, si va al riposo sul niente rifatto. Nella ripresa il Prato cerca di aumentare i giri al motore sebbene il San Gimignano non disdegni di replicare di rimessa. I senesi vicini al vantaggio al 56esmo con Alagia che trova un super Dermalia sulla propria strada. Il Prato al 59esmo passa in vantaggio. La rete porta ancora la firma del super bomber Moreo. Passano due minuti e la squadra bianco-azzurra raddoppia. Bazzoffia fa il fenomeno sulla fascia e finalizza per Cecchi che segna la rete del 2-0. Bene, il gol del 2-0, ho stabilito la partita già su un altro punto di vista e sul piano del gioco è migliorata ancora perché portando la partita sul 2-0 abbiamo trovato un altro tipo di gioco e siamo riusciti a andare in vantaggio bene e quindi è andato meglio così. E' festa per i bianco-azzurri che nel finale riescono a segnare la terza rete ancora con lo scatenato Moreo. 12esmo gol stagionale su asset di Fofanà. Non è stato facile nel primo tempo però siamo riusciti a rimanere lucidi. Sapevamo che una volta sbloccata la partita comunque andava tutto in discesa. Siamo contenti per le ultime prestazioni e speriamo che comunque ci dia la forza di fare una seconda parte di campionato migliore di questa qui. Il Prato vince e brinda al Natale. Adesso la sosta del campionato che riprenderà il 6 gennaio con il Prato impegnato nella trasferta di San Giovanni Valdarno. E ora il calcio dilettanti. Tanti gol nel turno pre-natalizio del campionato di calcio dilettanti. Tra le pratesi in evidenza il Malisetti-Tobbianese che continua a scalare la classifica. Sconfitte invece per Zenit, Viaccia e Giolli-Montemurlo. Giornata pre-natalizia nei campionati dilettanti. In eccellenza il Grassina-Capolista rallenta fermato sul risultato di 2-2 da uno scatenato Valdarno. Partita bellissima con rapidi capovolgimenti di fronte. Torrini salva Grassina che vede ridotto a tre lunghezze il vantaggio sul Poggi Bonsi che invece supera in casa per 4-0 la Bucinese con una tripletta di uno scatenato Vangi. I senesi tornano a fare la voce grossa e alla ripresa il 6 gennaio ci sarà la sfida tra le grandi. Poggi Bonsi, Grassina, ne vedremo delle belle. Alle spalle del tandem di testa perde contatto la Zenit Audax che viene battuta per 3-2 dalle badesse che rientrano invece in zona playoff. Le reti di Manganiello e Papazò non bastano ai pratesi falcidiati dalle assenze ad evitare la sconfitta contro i coriaceri avversari. In ripresa la Fortes Juventus che batte il Foiano per 3-0 mentre sarà un Natale amaro per il Signa superato dal Prato Vecchio sempre per 3-0. I canarini perdono quota in classifica. In promozione cade la capolista Pontremolese superata per 3-2 sul campo della Real Cerretese. Non ne approfitta la lampo bloccata sul risultato di parità 0-0 a Quarrata e allora alle spalle dei Lunigiani arriva prepotente il Malisieti Tobbianese che grazie a uno scatenato Caggianese supera il Villa Basilica e si conferma in grande spolvero. Sconfitta casalinga per il Viaccia che perde contro l'altra matricola Montespertoli mentre il jolly Montemullo perde in maniera difficile da raccontare al luco. Sopra di due reti i pratesi si fanno rimontare in tre minuti. Roba da non credere. Infine l'atletico Calenzano al quale non basta questa prudezza di Cerretini per passare all'Ammari. Finisce 1-1. Adesso sosta del campionato per le festività natalizie. Tutti di nuovo in campo. Il giorno di Befana. E passiamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buongiorno a tutti. Ancora alta pressione a protezione del Mediterraneo occidentale. Tuttavia la presenza di correnti nord-occidentali in quota porta alla presenza di un minimo relativo sul Mar Ligole e porta a un blando peggioramento anche sulla nostra regione. Per quanto riguarda il pomeriggio di oggi, qualche residua piovigine su settori orientali, il tempo tende a migliorare a partire da nord-ovest. I venti ruoteranno a nord-est in serata. Le temperature saranno stazionari. Giornata di domani caratterizzata da cielo sereno poco nuvoloso, con venti tra deboli e localmente moderati nord-orientali, temperature insensibile diminuzione e soprattutto in montagna. Anche giornata di Santo Stefano caratterizzata da cielo sereno poco nuvoloso, con venti deboli, temperature minime in diminuzione e massime stazionarie. Bene è tutto, vi ringrazio l'attenzione e vi auguro una buona giornata. E questa era l'ultima notizia del telegiornale. Termina qui il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato e per questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per averci seguito e vi ringrazio l'attenzione e vi ringrazio l'attenzione e vi ringrazio l'attenzione.